Siamo qui oggi per iniziare questa Kermesse che durerà una settimana per arrivare al 2 ottobre dove ci sarà la giornata conclusiva della festa dei nonni, questa festa che Senior Italia ha voluto tanto finché non è diventata una legge. Oggi nella conferenza stampa per noi è un momento molto importante, molto anche intimo perché non solo parleremo delle attività che saranno svolte durante questi giorni ma soprattutto perché rivivremo per un attimo quei momenti difficili di un grande lockdown e di tante vite perse di nostri aderenti o comunque di nonni e sono stati tantissimi, oltre 30.000 over 65 e oggi vogliamo dedicare questa festa dei nonni a coloro che non ci sono più a coloro soprattutto premiandoli che hanno lavorato 24 ore su 24 per aiutare i nostri malati italiani e in particolare i nostri anziani e quindi verrà premiata la protezione civile, verranno premiati tutti i medici italiani, verranno premiate le infermiere e verranno premiati gli psicologi d'emergenza che sono stati vicino alla nostra organizzazione e soprattutto a tutti i nonni d'Italia in un momento di estrema difficoltà. Non solo, parleremo anche delle nuove progettualità che la fondazione insieme a Senior e Dover stanno costruendo che sono quelli di un grande piano editoriale, sia cartaceo che televisivo e di tutta una serie di progettualità nell'ambito della salute e nell'ambito dell'assistenza che la grande federazione dell'associazione della terza età si sta ponendo in maniera molto forte per poter dare una mano ai nostri nonni d'Italia a cui va il mio più grande e personale augurio di una buona festa dei nonni.